Maurizio Crozza proprio non ce l'ha fatta a stare a casa per questo festival di Sanremo o forse non ce l'ha fatta a Fabio Fazio che ne ha chiesto la partecipazione contro tutti e tutto e l'ha fatto di nascosto non annunciandolo a nessuna conferenza stampa perché Crozza doveva essere la sorpresa bomba della rassegna stampa prevista per lunedì prossimo Maurizio non ti abbiamo annunciato il tuo nome sarà la sorpresa di lunedì prossimo assieme a quello del super ospite musicale mi raccomando acqua in bocca questo è il messaggino intercettato e inviato al comico genovese da Beppe Caschetto portavoce stampa di Fabio Fazio e Luciana Litizzetto a volte si sa la rete viaggia all'impazzata e in questo viaggio senza sosta spesso i dettagli si perdono ecco quindi smascherata la grande sorpresa di questo festival di Sanremo sul palco dell'Ariston tornerà Maurizio Crozza e si preannuncia un successo sì perché nel bene e nel male Crozza rimane un'icona e poco importa se l'anno scorso la figura è stata pessima quest'anno il comico ci riprova e c'è da scommettere che il suo show sarà impeccabile nel frattempo stasera c'è la copertina a Ballarò e chissà che non si riesca a sapere qualcosa di più non si riesce a sapere qualcosa di più